L'Atletico Ascoli evita la seconda sconfitta consecutiva al Don Mauro Bartolini, grazie al rigore di Maio in pieno recupero, che fissa il risultato sul 2-2 finale contro la Vigor Senigallia. Una gara bella e ben giocata da entrambe le formazioni, per un pari che alla fine può accontentare l'Atletico, visto l'andamento del match, mentre la Vigor mastica Amaro per un successo sfuggito in pieno recupero. Tra i padroni di casa assente il portiere Pompei alla seconda giornata di squalifica, Seccardini si affida ancora una volta a Ciabuschi, supportato da Minicucci, in attacco, con Maio che siede in panchina. Tra i rosso-blu assenti Alonzi, Di Sabatino, Tomba e Gerlero, Mister Clemente affida le chiavi dell'attacco al Totem e Pesaresi, quadruato dallo sgusciante Conè e da Ferrara. L'inizio è molto positivo per i padroni di casa, che passano dopo soli quattro giri di lancette. Camilloni entra in aria dalla destra, poi da terra serve Clerici, che crossa in mezzo verso Minicucci. La traiettoria del pallone incontra il pire di Rotondo, che inganna Roberto, il quale non può far altro che vedere la sfera infilarsi sul primo palo. La Vigor accusa il colpo e all'undicesimo Antoniazzi crossa verso la testa di Olivieri, che colpisce senza inquadrare la porta. Al diciannovesimo si vede per la prima volta la Vigor, con Gabbianelli, che calcia verso il primo palo, ma Galbiati ci mette il piede e respinge. Si arriva alla mezz'ora, quando Minicucci entra in aria e spara verso Roberto. Bravo a dirgli no! Nel momento migliore dell'atletico, la Vigor trova il pari. Corre il trentottesimo, quando un perfetto cross dalla destra di Conè trova in mezzo all'aria il liberissimo Pesaresi, che di testa insacca il pari. L'atletico, però, non accusa il colpo e quattro minuti dopo ha l'occasione per riportarsi avanti, ma la conclusione sporca di Ciabuschi trova ancora una volta Roberto pronto alla parata. L'ultima emozione della prima frazione di gioco la regala Gabbianelli, che sfiora il bersaglio grosso su punizione. Nella ripresa rientrano gli stessi 22 e la prima occasione coincide con il gol del sorpasso ospite. Corre il sedicesimo, quando dà una rimessa laterale. La palla arriva al centro dell'aria a Pesaresi, che rovesciata salve Ferrara, il quale non ha difficoltà a battere Galbiati. L'atletico non si scompone, ma per vedere la prima conclusione si deve arrivare al trentacinquesimo, quando non è entrato Scimia. Ci prova di testa, ma il pallone arriva a docile tra le braccia di Roberto. Il numero 18 si ripete, quattro minuti dopo, ma il portiere è ancora attento. Vengono concessi ben sei minuti di recupero e nel corso del secondo Severini tenta la rovesciata, ma il pallone sorvola la traversa. 60 secondi dopo, Mengani entra in area a contrasto con Pietri, cade a terra. L'azione prosegue con la palla che perviene a Minicucci, che viene steso da Mancini. L'arbitro indica il dischetto. Con Maio che freddamente batte Roberto. C'è ancora spaso per l'ultima emozione, che la regala Mengani, il quale dal limite spara verso la porta, ma il pallone sfila vicino al palo.